C'erano due categorie, erano il tiraggio e i camalli, cioè il tiraggio significava che erano gli operatori che lavoravano a bordo, quello che era tutto il bordo. Il camallo in generale, proprio chiamato camallo, scusate, è anche facchino, cioè praticamente lavorava a terra. Non è che poi il camallo non potesse andare a lavorare anche a bordo o quello del tiraggio andare a lavorare a terra. Si mischiava tutto, però in generale le due categorie erano chi lavorava a bordo e chi lavorava a terra. Diciamo che a bordo forse era un po' più difficoltoso, specialmente per quanto riguardava il carico della nave. Più difficoltoso perché a bordo c'era il discorso di dover stivare, difatti c'era anche una categoria che erano gli stivatori. Gli stivatori che insieme al capo di bordo e alla gente che lavorava a bordo era quello che si doveva preoccupare di quante tonnellate potevano stare in una stiva o quanto in un'altra. C'era un discorso di cubaggio, di tutte queste cose qui. Inizialmente quando si andava al porto era una scelta personale, cioè perlomeno quando siamo andati noi, di andare dalla categoria tiraggio o dalla categoria fachini, cioè il camallo in generale. Era una scelta personale. Tu decidevi di andare per lavorare a bordo e decidevi di andare a lavorare a terra. Poi facevi la tua trafila, poi col passaggio degli anni, quando siamo andati avanti dall'occasionalato alla ventizia o al socio, si è deciso anche di cambiare. C'era magari uno che decideva di cambiare categoria. Però diciamo, a bordo c'era un po' più professionalità. La chiamata, specialmente poi quella delle otto, che era la chiamata principale, dove specialmente poi a lunedì, dove a lunedì in linea di massima le due sale chiamate, perché erano due le sale chiamate, Tiraggio e Fachini, erano piene praticamente, strapiene. Già lì si cominciava, la bellezza della chiamata era quello che cominciava ad andare in compagnia, si arrivava a tutti, chi raccontava quello che ha fatto il sabato, la domenica, cioè praticamente era un ritrovo. Arrivava il direttore di chiamata e picchiava sulla cata da chi chiedeva il silenzio e cominciava a fare la chiamata. E la chiamata era un po' come la roulette del casino, perché lì a quei tempi che mi ricordo io sui 500, eravamo 500 per parte più o meno come categoria, lui cominciava non so, dalla prima nave che la chiamata iniziava, cioè il porto di Savona cominciava dalla zona della Toretta che era determinata in zone, zona 11, zona 10, zona 9. Da lì dalla Toretta faceva il giro fino alla zona 17, 18 dove ci sono i siloci, i reali e tutte queste cose. E dalla prima nave in avanti. Lui praticamente faceva un appello, partiva da noi, io per esempio a quei tempi li mi ricordo adesso, il 63 avevo, lui partiva dall'1 e andava avanti. Per esempio se io volevo rispondere, da me rispondevo il 63, poi non rispondeva più nessun altro. La nave seguente partiva dal numero 63, perché avevo bloccato la lista io. Mi sacrificavo a rispondere a una nave che magari non era ben retribuita, magari si faceva anche dalla fatica, però fermavo la lista per i miei compagni dietro, la mia squadra, che poi dopo magari andava alla nave più buona. E io poi in qualche modo ero riconosciuto. Non so, una volta eravamo a lavorare, magari se avevo da andare via, mi facevano andare via, cioè i colleghi. Cioè c'era un po' tutto un gioco, era un po' un gioco. Ed era molto bello. Certe volte succedeva anche che magari nella stessa mattinata, capitava quando c'era molto lavoro, di rifiutare anche due o tre chiamate di due o tre navi, per cercare di andare a prendere quella nave dove si guadagna di più. Perché in base al carico della nave che veniva dichiarata, perché il direttore di chiamata, il collocatore, quando dichiarava quella nave, quante squadre faceva, dichiarava la merce che c'era a bordo, dichiarava tutto. Di conseguenza i soci con esperienza e con tutto, sapevano come si faceva presto a sbarcarla, quanto tempo ci voleva e quanto si guadagnava. Noi avevamo il Corvè, avevamo il Giro e il Super Giro, che quella lì era nominativo. Erano praticamente le merci buonissime, dove si guadagnava un sacco di soldi. Le prime erano i coils, i rotoli di ferro, quelli che andavano alla Fiat. La giornata di lavoro delle portuali, che era quantificata a quei tempi, non so, poteva essere 12.000 lire, no? Con tutto, e poi vabbè, 12.000 lire per quello che riguardava la resa. Cioè tu facevi, non so, la resa era 50 tonnellate, tu facevi 50 tonnellate e avevi guadagnato una giornata. Ai coils, se ne faceva 700 tonnellate o anche più. Praticamente le giornate, ogni 50 tonnellate tu avevi una giornata, la sommavi su. Praticamente quella giornata lì tu andavi a guadagnare 10 giornate. Hai capito? E allora era fatto il super giro, che te ne toccava uno ogni mese e andava bene. C'era il giro, il super giro, che era quello lì, il giro e il corvè. Il corvè praticamente erano i carboni, le rinfuse. Per esempio le funivie, le funivie erano chiamate come corvè. Che andavi là, facevi due turni di lavoro, allora si guadagnavano 25.000 lire. Erano bei soldi, eh. La squadra di solito a bordo era di 6 alle merceologie normali e di 8 alla saccheria. Però nel giro di 10 nomi, praticamente quella era la squadra, 10-12 nomi. Una volta, quando noi, mi ricordo, siamo passati i soci, e tu andavi dal collocatore e diceva, vabbè, io, cioè ti chiamavano e diceva, da domani sei socio, dopo il terroccino che hai fatto da 27 e tutto un po'. Per dirti il valore della squadra, qual era. Se tu andavi dal collocatore e diceva, io vorrei essere messo in quella squadra là. Il collocatore ti diceva, ma loro lo sanno, ti accettano. Cioè c'era anche questo discorso. Se tu una squadra non eri accettato, dovevi cercartene un'altra. O se no, quelli che poi non gli interessavano andare in una squadra o in un'altra, venivano messi tutti a fondo lista. Le squadre te la facevi anche un po'. Cioè nel senso, tu quando arrivavi il socio, potevi entrare in un certo tipo di squadra. Poi, eventualmente, gli inserimenti andavi a cercarti. Perché per esempio, a noi ci piaceva lavorare in un certo tipo. Andavi a cercare, ti serviva magari quello che era più bravo sui trailer, quello che era più bravo sulla piloter, quello che era più bravo sulla... Cioè, avevi una squadra compatta, che poi andava anche quello. Il fatto di essere primeggiato, che quando dicevano, beh, c'è la squadra, non so, di Caviglia, no? Vabbè, quella lì è una squadra buona. C'è la squadra di quell'altro, diciamo, ma no, quella è un po' meno buona. Cioè, andava anche bene quello. Era anche un premio, cioè personale della squadra, alla fine del lavoro. Perché poi, sì, il lavoro, il guadagno è tutto un po'. Tanto se avevi la squadra migliore, lavoravi meglio, facevi più tonnellata, facevi più resa, di conseguenza facevi più lavoro. Noi eravamo cotimisti, però i manovratori del Porto non lo erano. E allora gliene potevano fregare di meno. se tu facevi tonnellata sui guadagnari, perché loro erano pagati a giornata. E allora cosa succedeva? Succedeva che anche quello lì, le famose gabelle, che qui a Savona se ne parlava poco, ma a Genova c'erano. Cioè c'era il periodo che i manovratori, certe volte, buttavano il secchio giù, allegato a uno spago, quando dovevano lavorare di più, c'era quello dell'agenzia che veniva, dai, dacci una botta a questo o a quella. E allora venivano un po' foraggiati, diciamo. Qualche bustarella esisteva anche a loro. Adesso dirlo sembra un po' brutto, ma era normale. Cioè noi guadagnavamo se loro lavoravano bene e facevano andare la gru. Però loro non guadagnavano più di quello che se facevano anche il minimo. Capisci? E all'interno delle squadre c'erano. E di fatto c'erano, eh, Palandri, si scendeva da bordo magari, no, nel classico libro, Palandri, non hai fatto niente, Gnati, abbiamo fatto per gli altri, tanto pij tanto come Gnati, no. Noi eravamo molto solidari per il fatto che tu quando arrivavi a fare la trafila del porto, che arrivavi in compagnia, io me lo ricordo, mi viene la pelle d'oca ancora adesso, quando mi hanno chiamato mi hanno detto guarda che dal prossimo mese tu rispondi da socio, no? Io per me, io ho raggiunto il cielo con un dito. Cioè io quel mattino, quando sono andato lì, perché appena entravi da socio, venivi chiamato a quella famosa lista che ti dicevo, al super giro, perché ti davano il premio che tu eri entrato. Ed eri primo a rispondere alla chiamata migliore che c'era. Cioè io quando ho messo il piede in compagnia quella mattina lì, perché dal ventissimo da fuori via, noi eravamo sempre fuori, in compagnia avevi diritto solo quando eri socio, perché da occasionale o anche da fuori via, delle volte entravi in compagnia, c'era qualche socio che andava da direttore, gli chiamato e gli diceva guarda che ci sono degli estragni. Finché non eri uno di loro, eri un estraneo. Poi avevo un vantaggio che avendo un fratello gemello e un po' di vantaggio lo avevamo. Cioè nel senso che lui è andato prima e forse per me è stato più semplice, perché ai tempi di una volta, cioè si rischiava che quando i primi tempi che siamo andati al porto, che tu andavi a fare la doccia e arrivava il socio, non c'era una doccia libera, ti chiedeva di uscire. Succedevano anche quelle cose lì, ma l'abbiamo sempre giustificato, abbiamo sempre detto che era giusto. Cioè io ancora adesso penso che a quei tempi là era giusto, che il socio avesse un qualcosina di più. Cioè la mentalità, anche se so che è sbagliato, si era guadagnato, lui era il socio, tu domani potevi essere il socio. Ma il domani, quello che ti ha fatto uscire dalla doccia, domani quando eri insieme a lui, cioè eri come lui, cioè tu non riservavi il rancore nei suoi confronti e lui non si ricordava che ti ha, cioè si ricordava che ti ha malato fuori dalla doccia, però non gli fregava niente, cioè tu dopo eri come il suo fratello, come un suo coso. Cioè io ti dico, io ho fatto il portuale, sono uscito dalla compagnia come tecnico, come gruppo dirigente, diciamo, però io andavo a lavorare, sì chiaramente tutti andiamo a lavorare per il nostro CPE, ma io andavo a lavorare per la voglia che avevo di lavorare per la compagnia, per la nostra, noi ci potevano toccare tutto fuori che la nostra compagnia. Questa era la bellezza di allora, che noi abbiamo vissuto bene, dico bene, perché eravamo dei privilegiati, inutile una scuola, anche se abbiamo fatto delle vitacce. Perché io quando a delle volte dicevo un giro sai, noi portiamo il sacco da qui in spalla, in spalla, quando io avevo 20 anni, la gente mi prendeva in giro e mi diceva i sacchi li portano le gru, sì, le gru la portano in stiva, ma in stiva devi poi stivarli, questo come colato, dalle cassette di banane, a tutte le merceologie, a tutte le porcherie che abbiamo mangiato, noi non sapevamo mai niente di quello che c'era nei fusti, noi delle volte mani mettevamo dei fusti, non avevamo guanti, non avevamo mascherie, i guanti ce li dovevamo comprare, noi i guanti abbiamo cominciato a darcelo negli anni 80, adesso sembra tutto facile, sembra tutto bello, adesso parli, ma il porto di una volta era sofferenza, da Savon, noi abbiamo fatto di tutto, la cosa più peggiore che abbiamo fatto è il cromo, poi abbiamo fatto gelsonite, salgemma, pirite, solforite, abbiamo fatto di tutto e di più, non sappiamo quello, noi siamo ancora vivi e fortunatamente lo ringraziamo, non abbiamo mai adoperato mascherie, non abbiamo mai adoperato niente, perché le rinfuse poi erano tutte, ma la rinfusa farina faceva male, il grano faceva male, le fave facevano male, facevano grattare, la gente poi finiva di lavorare a tutta una bacioca, diciamo, tutte pustole, perché chi era allergico le faceva quelle cose lì, la farina fa male, se la impasti va bene, poi la mangi, ma se tu respiri, noi facevamo nave, noi facevamo 10, 15, 20 giorni al mese col sacco in spalla o riso, farina, manca la polvere di riso, io ho un fratello che è gemello e lui è entrato un anno prima di me in Porto e mi ricordo che appena sono arrivato mi fa la prima cosa che devi imparare è quella che non bisogna mai camminare con, bisogna sempre camminare con la testa in alto, guardare sempre per l'aria, perché i carichi sono spesi quando passi su una banchina, su questo o quell'altro, adesso è quasi più niente, ma una volta c'era il mondo quando andavi in Porto, e il tema della sicurezza, il tema della sicurezza, cioè si cercava di essere, perché i dirigenti della compagnia, i tecnici o i capi cercavano sempre di dare dei moniti, cioè praticamente di dire alla gente non fate questo, non fate quell'altro, ma poi era tutta una cosa, la sicurezza te la facevi da solo, cioè dovevi essere sveglio, purtroppo, e io forse tanto sveglio non lo ero, no, però quello che mi è capitato a me è l'incidente, mi è capitato, stavamo lavorando, il manovratore è entrato prima di quando noi, è il discorso che facevo prima, cioè noi stavamo sistemando una bancata dove doveva posare l'imbragata dei sacchi di riso, eravamo ancora lì che finivamo di sistemare, lui con l'imbragata è entrato, voluto il caso che si è strappato la braga, è venuta giusta cosa, io ho preso due sacchi addosso, ho avuto un trauma cranico, lo schiacciamento di una vertebra, però sono ancora qui a raccontarla, però il tema della sicurezza nel porto si faceva fra di noi, perché poi era molto legato innanzitutto al guadagno, perché da noi eravamo cotimisti più lavorabili, tu potevi dire vabbè sta a sentire quello che fa lì, facciamo spostare questa cosa, la squadra diceva no ma lascia stare, stiamo attenti, basta non fermare il lavoro, perché magari per andare a certi accorgimenti dovevi fermare il lavoro, fermare il lavoro vuole fermare il cotimo, il porto alle vuole guadagnare dei soldi, l'importante era quello lì, e allora la sicurezza a certe volte veniva meno, noi lavoravamo con 20 sicurezze sui cavi e sulle catene, per cui un cavo che noi lo davamo per tirare su 6 tonnellate, ne poteva tirare benissimo su 60 e non succedeva niente, capisci? Lavoravamo con le sicurezze lì, anche perché perché noi quando sbarcavamo una nave con varie merciologie a bordo dal coes da 30 tonnellate al coes da 10 da 15 cioè se tu le davi una catena al portuale, una catena che tirava su 10 tonnellate, poi c'era a tirare nessuno da 30, non è che cambiava la catena da 30, te lo dava con quella da 10 per fare prima e poi per quanto riguarda le navi, le navi purtroppo se andavamo alle sicurezze che cercano adesso a quei tempi non si lavorava, non si poteva lavorare, già il fatto di scendere nelle estive con le scale che c'erano, praticamente erano scale, una scala appoggiata all'esterno, questa scala a pioli alta 20, 25 o anche 30 metri tu dovevi arrampicarti lassù per scendere e da laggiù a scendere dovevi scendere e poi salire da quella scala lì, non c'erano più le scale come ci sono adesso con i vari poggioli, le varie terrazze e la ringhiera addirittura, una volta non esisteva, guarda io ti posso dire che a Savona poi nei porti italiani non solo a Savona, nei porti italiani la sicurezza in mano è mai stata fatta, qui poteva venire qualsiasi tipo di nave attraccava un po', già per esempio gli Stati Uniti d'America quei porti, tu la nave arrivava lì, ti arrivava la capitaneria a bordo, non eri in regola, ti fermava la nave finché non la mettevi in regola e di lì non partivi, qui da noi non esisteva, anche perché, perché qui si chiamavi se chiamavi rina così dicendo ti fermavano la nave, qui non lavoravi più, noi siamo stati fortunati, io parlo della mia leva, perché noi siamo stati l'evento delle macchine operatrici a bordo delle navi, dalla piloter per le rinfuse, ai carelli, a questo, a quel lato, cioè i vecchi quando hanno visto che gli toglievi dalla fatica e comunque non gli toglievi i soldi, anzi glieli facevi guadagnare di più e allora eri rispettato, noi ci ricordiamo che le prime macchine operatrici che hanno messo a bordo delle funivie al carbone, gli operai, i portuali, si sono seduti sul carbone che non volevano le macchine, perché loro avevano già capito quello che sta succedendo adesso, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, che tutta la meccanizzazione, il robot, tutto questo, quello altro, serve solo per togliere dei posti di lavoro, poi andiamo a ricercare, a quei tempi i portuali si sono seduti sul carbone, non facevano lavorare i bulldozer, gli scavatori, cioè che mettevano all'interno della stiva per ammucchiare il carbone, perché nelle funivie, per esempio, nel carbone alla fornico, alla fine nave cosa andavano? Andavano 20-30 operai con le zappe e con le pale a pulire il fondo stiva, a pulire la nave, perché la nave la devi dare pulire col piloter, un uomo solo, tre uomini a spazzarci in giro, faceva tutto. Non potrei mai sentire uno che ha lavorato 30 anni in uno stabilimento parlare come sto parlando io adesso, non lo sentirai mai, perché lui aveva dei padroni, lui era uno che andava lì per lavorare, ed erano operati, no, noi eravamo i padroni, eravamo padroni, eravamo operai, eravamo stivatori, eravamo camagli, eravamo manovratori, eravamo tutto, noi eravamo il porto, noi eravamo la compagnia, la compagnia era la nostra, era questo che ti dava solidarietà, perché noi litigavamo, facevamo di tutto, però poi al momento della compagnia eravamo tutti uno per l'altro.